Sindaco Cristaldi, se non è una vera e propria emergenza rifiuti, ma ci si avvicina molto, la discarica di Campobello di Mazzara è stata chiusa, i rifiuti si conferiscono a Trapani, ma ci sono disagi nella raccolta a Mazzara del Vallo? Ci sono disagi che sono la conseguenza di una politica un po' sufficiente, qualche volta persino dilettantesca, dell'attuale gestione della Tobelice. Noi contestiamo questa procedura, questo metodo di raccolta dei rifiuti, per il terzo giorno consecutivo i rifiuti a Mazzara del Vallo o non si raccolgono o si raccolgono parzialmente. Questo non può essere accettato anche perché tutti sanno che proprio sulla pulizia della città e sulla capacità di rendere più vivibili le zone, eliminando il degrado, abbiamo puntato molto della nostra azione. Siamo ormai una città che si proietta anche a livello internazionale con l'immagine turistica e non possiamo, per questioni anche banali, sopportare questa situazione. Ho già comunicato all'atto Tobelice, alla gestione commissariale, alla signora Sonia Alfano che noi non pagheremo il servizio che non è reso e decurteremo le somme che dobbiamo dare all'atto Tobelice di quelle relative al fatto che il servizio non è stato realizzato in molte parti pienamente. E' il minimo che possiamo fare. Purtroppo dobbiamo aspettare che il servizio intero passi al comune. Abbiamo già approvato un piano di intervento che io ritengo eccellente, che risolverà tutti i problemi della nostra città, a cominciare anche dalla raccolta differenziata. Saremo uno dei pochissimi comuni dell'Italia centrale e meridionale che effettuerà la raccolta differenziata in tutto il territorio. Ma per ora abbiamo una situazione quasi emergenziale perché non possiamo accettare che per esempio non si raccolgano i rifiuti proprio nei giorni festivi. Ma come? Proprio nei giorni festivi quando la gente esce per passeggiare e vuole godere un po' dell'ambiente della nostra città, proprio quando arrivano i turisti, quelli che sono della nostra zona, noi non riusciamo a presentare un'immagine corretta. È una cosa che contestiamo e apriamo quindi un contenzioso con la gestione attuale della Tobelice. Il Comune di Mazzara apre, il contenzioso naturalmente ci si riferisce a tutto il periodo del primo scorcio 2015 e quello che sarà successivo, perché occorre chiarire per il 2014 il Comune di Mazzara del Vallo ha già saldato tutto. Abbiamo dato tutte le somme che dobbiamo dare, c'è anche chi ha speculato su questo facendo credere che il Comune di Mazzara del Vallo debba chissà che cosa all'atto bene. Noi abbiamo saldato i nostri debiti, c'è qualcosa ancora da saldare relativamente al 2015 ma è nella piena normalità, non si capisce perché si vuole affibbiare colpe che sono proprie ad altri soggetti. La verità è che si sapeva che la discarica di Campobello di Mazzara sarebbe stata chiusa e quindi era logico che la Tobelice organizzasse un metodo diverso di raccolta dei rifiuti sapendo che i rifiuti non potevano essere più scaricati a Campobello ma in discarica distante da Campobello di Mazzara. In questo caso è stata scelta dalla Sonia Alfano la discarica di Trapani e naturalmente la scelta della Sonia Alfano è avallata dalla Regione. Noi ne prendiamo atto, questo significa un aumento dei costi ma non possiamo accettare che questo elemento di degrado persista anche per colpa di istituzioni che invece sono nate e sono immaginate per risolvere i problemi e non per aggravarli. Per quanto riguarda il piano di intervento che lei accennava Sindaco siamo stati anche ad occuparci dell'argomento qualche settimana dietro un piano di intervento che prevede un risparmio economico ed un miglioramento del servizio ma questo quando ci sarà il passaggio all'SRR. A proposito di questo passaggio, questo trasferimento di competenze? Abbiamo approvato il piano di intervento, mi risulta che anche tutti gli altri comuni hanno già pronto il piano di intervento forse qualcuno lo deve ancora formalmente approvare ma tutti hanno fatto già le loro scelte ciò significa che il piano d'ambito potrà essere redatto nel giro di qualche mese dalla Università di Palermo dalla Facoltà di Ingegneria e quindi subito dopo la Regione potrà fare la gara d'appalto per affidare questo servizio. Noi intendiamo affidare all'esterno il servizio perché pensiamo che un privato abbia un maggiore interesse a raggiungere risultati diciamo più che sufficienti perché sa che se non raggiunge quei risultati non sarebbe pagato il pubblico è stato dimostrato che ha qualche lacuna da questo punto di vista. Il piano di intervento sarà rivoluzionario perché innanzitutto voglio smentire queste false dichiarazioni di qualcuno che ha sostenuto che il Comune di Mazzara del Vallo vuole licenziare il personale della Tobelice noi non soltanto non vogliamo licenziare il personale della Tobelice, lo vogliamo mantenere, lo vogliamo organizzare in maniera diversa ma addirittura vogliamo fare nuove assunzioni. Per cui rispetto agli attuali operatori della Tobelice che lavorano nel territorio di Mazzara del Vallo noi assumeremo altre 21 persone. Si sa che abbiamo fatto un bel servizio con il netturbino di quartiere e si sa anche attraverso questo nuovo piano di intervento che la logica e la cultura del netturbino di quartiere sarà estesa a tutto il territorio. Faremo una differenziata come dicevo del 100% in tutto il territorio attraverso un sistema nuovo che rispolvera per certi versi una logica del passato che è stata ingiustamente abbandonata ma viene questa logica anche modernizzata. A ciascuna famiglia saranno consegnati dei sacchetti di plastica di diversi colori in modo tale che i cittadini potranno prendere questi rifiuti differenziandoli in casa e ponendoli nelle apposite aree che saranno destinate proprio alla raccolta differenziata e anche alla raccolta indifferenziata. Questo metodo costerà meno rispetto a quanto costa attualmente il servizio ai cittadini risparmieremo non meno di 500.000 euro l'anno e avremo un servizio migliore con più persone occupate e con una città più vivibile.